E' bene! Anche a... Non mi chiede per la mia vita il gruppo E' un segretario che mi vengono per venire Ma fordì la corso è stato fra i sani Ha notato il mio femminile E sarei fissato Vabbè, è un giambo Sì già io mi chiede Vabbè, è un giambo Marahba, è un giambo Sì già io mi chiede Ho Madame da ris borrowt или è un giambo L'idad oっていう Ma ho nascita in Pubg nên Vabbè, ma ho parte Chao dal-quas но Qua credo di metta Ma parla Chiamo Un giambo Un giambo Un giambo ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.